bellissimi cerchietti, no, quello è finto, non è vero, non esistono così i baby hair oddio! mi sono sempre sentita molto ibrida e quindi mi sono sempre sentita fuori luogo un look che, boh, non so, Milano spopora la mia tendenza è quella di scappare buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, nuovo vlog voglio filmare perché oggi è una giornata abbastanza divertente abbiamo un pochino di cose da fare e ho pensato di portarvi con me è la design week, quindi ci sono stati diversi appuntamenti, diversi eventi Milano in subbuglio, è molto divertente io sinceramente non amo particolarmente tutti gli eventi mondani, vedere gente, eccetera lo sapete? io sono un po' un'introversa nel senso che quando sono in compagnia degli altri do tanta energia, tanta, tanta, tanta se mi avete visto i vari eventi, i rimi di wellness, eccetera sapete che do tanta energia e questo ovviamente mi svuota quindi io quando torno da qualunque social event ho bisogno di un momento un'ora, due ore per stare con me da sola a recuperare tutte le energie e facendo le cose in silenzio e vabbè, è una mia caratteristica che sto cercando di neanche cambiare in realtà non sto cercando di cambiare che ho compreso e verso la quale poi reagisco e agisco di conseguenza perché diciamo che la mia tendenza è quella di scappare cioè se ho uno di questi eventi che so che poi mi risucchia energia il mio primo istinto è no, scappa, non andare all'inizio dico sì poi ho questo periodo al ridosso dell'evento che dico perché ho detto sì chi me l'ha fatto fare poi vado, mi diverto torno a casa e dico hai visto? ecco cosa te l'ho fatto fare quindi sapendo che questo è il circolo vizioso che c'è cerco di spingermi a andare e cercare di pensare sempre meno e farmi meno il sangue amaro perché comunque è una situazione un po' pesante viverla prima di tutte queste cose comunque io e i miei disagi storia della mia vita e niente, quindi io questa mattina ho lavorato anzi ho registrato tantissimo in particolare ho registrato un altro allenamento di un nuovo programma che ho scritto per Bloomwell e che sto filmando non vedo l'ora di farlo uscire perché è meraviglioso io lo adoro profondamente li amo tutti ogni volta che ne creo uno ne amo sempre di più quindi è fatto così e basta ora andiamo a pranzo e poi inizieranno i preparativi per questa sera che è venerdì sera yeah 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 yuppie yeah cioè non inizieranno mai i preparativi dopo pranzo ovviamente visto che andiamo a uscire alle 5 e mezza però vabbè insomma pian piano è da tanto che non mi faccio i capelli mossi e quindi oggi voglio farmeli con l'air wrap di Dyson e devo un attimo di umidire quello delle piante ho preso? un pochino allora vi do assolutamente a far vedere questo è uno dei miei vestiti preferiti lo adoro cioè la bellezza di questo vestito è che qualunque scarpa accessorio li metti cambia totalmente questa sera come scarpe voglio provare un look che boh non so Milano spopola ed è il mocassino più il gambaletto non lo so ho mixed feelings ma gambaletto inteso proprio come gambaletto di questo qua mezza gamba così non so da voi ma a Milano è tipo high fashion l'ho visto in giro e ho detto non so se su di me quindi oggi lo proviamo io ho un polpaccio ecco l'ho già tirato io ho un polpaccio ok dovrebbe arrivare così ok non posso piegarmi troppo sì bello mi sembra proprio buonissimo aspetto fa non lo so è lo che vuol dire io ho un polpaccio ma cassini ragazzi questi è una mia coccola non li compro mai niente quindi ho detto che una volta investiamo gli sti soldi ok ah il calzascarpe lì lì dove dovrebbe essere vabbè sono andate senza uh bello l'effetto l'abbiamo trovato com'è? molto bello sì? sì sta molto bello me lo studiamo da un po' ho comprato sti gambaletti ho detto vedremo se avrò il coraggio ci sta? decisamente sì? mi piace? è un po' strano lo so solo io posso farmi piega e capelli e tutto e poi andare in scooter storia or my life mi sembra un po' comodo però il casco venga meglio il casco venga meglio lo dice la parrucchiera cose normali l'avranno tenuto vabbè è stato bevettato poteva essere peggio comunque io so che vi starete chiedendo Silvia vi starete chiedendo Silvia ma tutto questo impegno poi non ti trucchi la verità è che questa settimana Kiko ha messo a disposizione le sue make up artist per chi vuole farsi un make up per gli eventi della design week chi sono io per declinare l'invito nessuno quindi sto andando sento un po' come una principessa comunque un po' di make up gold un po' di gold qua il problema di questi eventi è che non si mangia sono tutti all'ora di cena ma non si mangia quindi io cerco sempre è per forza e quindi cenetta super easy ma cenetta perché ne hai visto non cenare amore è qui pad thai back to thailand si è sporcato sono sporcato no mi sa che ho il lime no ecco dove andare il lime io più taglio un po' più internet più ball passano le tartellette ora la silvia ci dirà come desisterà il freddo il segreto è entrare in meditazione modalità zen modalità zen e non senti il freddo e dopo la vasca di ghiaccio durata 17 minuti questo ne parliamo domani quando avrò la bronco polmonite ma soprattutto io domattina ce l'avrò ancora una voce che mi è tornata solo da oggi o mi durerà meno di 24 ore questa voce buongiorno è sabato you know the drill come si chiama? mercato day yeeeh andiamo oggi totalmente struccata rispetto a ieri come sono più carina? come sono più carina? passa parola sei più carina ora sei più carina ma vogliamo parlare di queste fragoline di bosco a 5 euro no che belle è un profumo meraviglioso oggi bottino ricchissimo meraviglioso con queste fragoline di bosco che devono volare in frigo alcune sono un po' rovinate ma hanno un profumo meraviglioso meraviglioso dunque non sono fragoline di bosco le fragole di bosco sono un'altra roba ancora ma allora queste sono le fragoline hanno proprio quella forma da come quando il mio nonno aveva l'orto ok? chiamarle come vuole da orto va bene sono diverse rispetto alle altre quanto è polemico poi abbiamo questi finocchi belli grossi belli ciccioni questi sono buonissimi da mangiare così crudi broccoli probabilmente gli ultimi di stagione da fare al vapore con olio e sale adoro semplicissimi sono una delle cose più buone melanzane insalata 4 days signorina è polemico questa mattina ne volevi prendere anche 3 casse magari 4 si offriva tutto il corsello che noia e poi cioè due chicche due questi pomodorini arancioni sono dolcissimi troppo troppo buoni non dureranno niente caramelle ma poi loro il mangostano l'abbiamo scoperto quest'anno in Thailandia quando Jimmy l'ha visto e cioè si sono illuminati gli occhi no già è già così ma amore tra 10 minuti si mangia no volevo vedere solo se l'aprivo ma è molto duro no è duro è duro da aprire oddio appena appena li apriamo uno devo far vedere com'è fatto dentro oggi apriamo il mangosti mangostano mangostin in inglese yeah come fai ad aprirlo ok ci siamo aspetta e oddio che meraviglia cioè sembrano dei piccoli aglietti sono una cosa fenomenale perfetto ecco questa polpa qui non la prendere non mi ispira nemmeno no ma non è niente di che però non è buono come me lo ricordavo davvero è identico proprio il sapore c'è tutto come volare in Thailandia guarda questo occhio perché dentro c'è il seme e il seme non è buono come volare in Thailandia con il piatto con un frutto bellissimo il potere del cibo ma ti sei accortato che non hai tempo di registrazione no infatti io oggi salutiamo ciao 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 pizza yeah 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 vestiti pekin pekin express yes let's go serata piccolo unboxing di prodotti per capelli perché c'è da parlarne allora diciamo che il mio più grande problema sono i baby hair vediamo se riesco a dare più luce ok quando mi faccio la coda escono da ogni lato qua lato escono non sono quelli carini che vedi su Instagram che hanno tutti questi bellissimi cerchiei no quello è finto non è vero non esistono così i baby hair i baby hair sono sparati in aria quindi io finisco gli allenamenti che ho tipo un'eureola intorno alla mia testa di capelli non mi piace particolarmente quindi ho studiato nel tempo delle possibili soluzioni e voglio provare questa combo che è questa wax stick cioè praticamente della cera in stick eccola qua ho preso quella consigliata su Amazon e si si applicherebbe spingendo dal dal fondo e si applica ok quindi la proveremo domani perché domani devo fare una cosa importante e vedremo come va e insieme a questo c'è il pettinino con queste setole un po' spesse non sono le solite setole dei pettini che quando pettini separano tutti i capelli ma questo idealmente dovrebbe ben unirli e far sì che si crea un effetto molto omogeneo speriamo io confido in voi questa combo dovrebbe risolvere i miei problemi della vita sarebbe bello poi cos'altro ho preso perché nel momento in cui prendi una cosa che fai non prendi altre 200 cose che magari non ti servivano ovvio ovvio e io sì ecco perfetto ho preso tantissimi troppi perché non ho abbastanza capelli per tutti questi elastici però poi si perdono inevitabilmente elastichini sono troppo grandi li volevo molto più piccoli perché li voglio per la per quando faccio le le trecce da mettere sul fondo e vedo già che questi sono troppo grandi quindi mi sa che questi reso meno male perché sono troppi non ho aspettato così tanti questi reggono benissimo tutti i miei capelli non sono da fine anche perché ciò che a me piace utilizzare per tenere i miei capelli non sono quegli elastichini così un po' tristi ma e posso dire packaging molto molto carino ok e vediamo sono un po' piatto sono degli scrunchies e sono colore pastellino adoro mi piacciono tantissimo questi sì questi belli io adoro gli scrunchies li utilizzo anche troppo tipo sono appena tornata dalla piscina e il mio elastico per i capelli in piscina era questo questo penso di averlo da un anno oggi mi lo odia perché era tipo di questo colore però non riesco a farlo a meno mi piacciono tantissimo perché danno questa sontuosità insomma alle code e qui ora ne abbiamo di diversi colori potevo resistere sì l'ho fatto no perfetto molto bene quindi questi sono stati mi acquisti già che ci sono volevo affrontare un discorso che per me è abbastanza importante e riguarda un pochino quello che avete visto in questo video venerdì cioè quando mi sono truccata eccetera ho postato ovviamente su instagram e ho ricevuto diversi messaggi che mi dicevano no Silvia stai molto meglio struccata oppure no Silvia molto più bella al naturale allora primo grazie per pampare il mio ego però spero di no cioè ragazzi io spero di no perché il make up ha l'obiettivo di valorizzare la nostra bellezza e se mi trucco e sto peggio cioè c'è stato qualche problema con il truccatore eccetera quindi quello che secondo me sciocca un po' è il cambiamento è la diversità è il nuovo è il diverso ma il fatto è che io non rimango così cioè truccata vestita per sempre come non rimango così per sempre cioè noi possiamo veramente essere tutto la cosa bella dell'essere umano non voglio neanche dire della donna perché non è vero è dell'essere umano è che ogni giorno può decidere chi essere come si veste come si trucca come decide di approcciarsi alle persone eccetera definisce un nuovo modo di essere della persona che rimane la stessa non cambia semplicemente siamo molto mi piace dire camaleontici cioè ci possiamo adattare possiamo cambiare in base a come ci sentiamo alle condizioni alle situazioni al contesto e non ci deve bloccare questa cosa cioè soprattutto lo vedo sui social i profili sono molto verticali sono molto targetizzati quindi se uno pensa al mio profilo dice fitness ok ma no o meglio almeno non per me io ho sempre portato me come persona non solo come trainer non solo come appassionata di fitness allenamenti palestra eccetera ma come persona e in quanto tale se voi ad esempio andate sul mio profilo ma anche qui su youtube voi vedete che io parlo di tutto ho appena parlato di capelli parlo di make up parlo di emozioni parlo di viaggi parlo di fitness parlo di allenamenti parlo di cibo ma non perché come profilo o come instagrammer o youtuber non so di che cosa parlare quindi parlo un po' di tutto ma perché mi piace portare la persona che sono con i tutti i suoi interessi che sono vari e diversi e non c'è niente di sbagliato o meglio non dobbiamo pensarci come delle cose verticali tu sei quello che ama studiare punto no tu sei quello che ama studiare però poi magari il venerdì o sabato sera va a fare il cubista in discoteca ok cioè io odio le etichette proprio non mi piacciono perché io personalmente non mi sento mai che ho appartenuto a un'etichetta ma sempre sento molto ibrida e quindi mi sono sempre sentita fuori luogo no tipo ah ma tu sei questo tu sei quello no in realtà sono un po' di tutto un po' di niente ma perché perché siamo persone come esseri umani abbiamo tanti e diversi interessi e mi raccomando tutto questo discorso è per dire non limitatevi cioè voi potete essere bestiacce in palestra la mattina e la sera essere truccate rifinite super eleganti ingioiellate col tacco 12 non una cosa non esclude l'altra e potete essere benissimo entrambe quindi detto questo era un po' un piccolo sfogo perché è una cosa che veramente ogni volta che ricevo i commenti dico madonna perché perché cioè non è che ce l'ho con queste persone è che vedo un po' quel limite che la società che i social il mondo in cui viviamo un pochino ci sta incanalando no usciamo da questi canali usciamo da questi schemi e basta quindi spero che questo motivational speech dopo che mi avete visto tutta bella truccata così this is what you get vi lascio un pochino da cui pensare e io concluderei qui questo video noi ci vediamo nel prossimo domani farò una cosa molto molto bella che però vi potrò far vedere verso giugno quindi domani la filmerò ma poi vedrete a giugno e io non sto nella pelle quindi oggi è una giornata di preparazioni e basta vi lascio quindi grazie per aver guardato questo video noi ci vediamo nel prossimo se vorrete se volete lasciate un mi piace iscrivetevi al canale lasciate un commento mi piace interagire con voi nei commenti poi magari mi danno spunto per video chiacchiere eccetera sapete che mi piace farlo quindi ciao 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 ciao